Buongiorno due, c'è a cazione. Maria, lo stai? Vieni qua, vieni qua. Allora, ieri hai avuto un successo, ma un successo da tutti quanti dalla vista. Mamma mia, ma come faccio schifo? Ma te te, questo lo so, ci metti le labi? Le labi, sì. Ma faccio schifo che sono io, però, ma tu sei... Ma non vedete, non so. Buona ieri le zucchine. Buona, amore. Faccio le zucchine, stasera voglio fare... I feneroni non si fanno? No, no, no. Ma c'è il radicchio, vabbè. Maria è il numero uno. Amore, guarda questa, è a Pino del Mondo. Speriamo. Mi ha toccato, perché io guardavo sempre in televisione, la guardavo sempre, quando facevi la prova del fuoco. Brava.